Una ricerca afferma che mangiare insieme ai propri colleghi favorisce rapporti più cordiali. Una ricerca ha evidenziato che inalare i fumi dello stagno può allungare la vita di almeno tre anni. La stessa ricerca afferma che in nove casi su dieci si perde l'uso delle gambe. Una ricerca sostiene che il 100% delle ragazze del laboratorio di NTA subisce molestie, tranne quelle del primo anno. La nostra ricerca afferma che, al di là di tutte le ricerche, ogni NTA è diverso e cresce a modo suo.